Un'autentica frode carosello è stata messa in atto in un autosalone di Carpaneto dove le auto venivano importate attraverso fatture false dall'estero. I documenti doganali per il passaggio dei veicoli veniva falsificato e le auto potevano entrare nel nostro paese con una conseguente evasione dell'IVA. Il titolare dell'autosalone, un 46enne piacentino molto noto nel settore, è stato arrestato e con lui anche un altro imprenditore di Alessandria. Le custodie cautelari in carcere si sono tramutate in arresti domiciliari, altre due persone sono state denunciate, si tratta dell'amministratore formale della concessionaria e di un altro imprenditore. Le accuse a vario titolo vanno da evasione fiscale, contrabbando in concorso ed emissione di fatture false. Sono stati sequestrati terreni, automobili di lusso e denaro. Sembra che ci sia peraltro anche la disponibilità da parte del titolare dell'autosalone di provvedere ad estinguere il debito tributario. Si parla di un'evasione di 750 mila euro, 168 veicoli sequestrati tra cui diverse decine di lusso, fatture false per 3 milioni di euro, operazioni di contrabbando per 2 milioni e mezzo. Le fatture falsificate venivano emesse da due società intestate ai due imprenditori che importavano le auto soprattutto dalla Svizzera e dalla Spagna. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Fiorenzuola, coordinata dal sostituto procuratore Antonio Colonna. Un'operazione molto importante che ha visto la collaborazione tra Procura e Guardia di Finanza. Sì, collaborazione tra Procura e Guardia di Finanza che è sempre più stretta in un tipo di criminalità che richiede collaborazione, richiede affinamento. Il titolare dell'autosalone in passato era già stato condannato per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Trento.